Beh sicuramente se si va nella direzione della riduzione di IRAP è una direzione più che virtuosa. Io la chiedo a gran voce da diversi anni perché l'IRAP è un'imposta inigua che va a impattare sulle aziende che fanno ricerca, che utilizzano tanto capitale umano e quindi ben venga. Le banche sicuramente sono in difficoltà anche loro quindi non sappiamo fino a che punto possono effettivamente riaprire i cordoni della borsa. Di sicuro c'è una cosa che ci terrei a sottolineare e ritengo che nella situazione attuale con gli Stati Uniti che hanno deciso di non applicare le regole di Basilea 3, penso che in questo momento anche noi dovremmo pensare in Europa una moratoria per l'applicazione delle condizioni di Basilea 3 perché altrimenti ci autopenalizzeremo notevolmente. Ma io parlando di... se guardo le nude cifre non ci credo perché il Centro Studi di Confindustria parla di meno 2,4 quest'anno, meno 0,6 l'anno prossimo con un auspicabile cambiamento di tendenza nella seconda parte dell'anno. Cioè ritorneremo a vedere dei numeri dei più. Penso che una vera ripresa ce la dobbiamo ragionevolmente aspettare solo per il 2015. Con questo governo? Beh questo governo ormai ha esaurito il suo compito, ha davanti a sé poche settimane di vita, insomma specialmente se c'è l'accordo per l'Election Day la vita è brevissima.